Hanno sorpreso un ladro che si era introdotto nell'abitazione della nonna assente a Torre Maura, lo hanno inseguito e telefonato al 112. E così un georgiano di 46 anni che era entrato dalla porta finestra per rubare oggetti di valore, alla fine è stato arrestato dai carabinieri della stazione Centocelle e della compagnia Casilina. Quando sono sopraggiunti sul posto era ancora lì, fuori dall'abitazione della vittima, e lo hanno arrestato. Si era già impossessato di gioielli e altri oggetti di valore. In queste ore, 46 anni, è comparso davanti al GIP per l'udienza di convalida. Il giudice ha deciso di rimetterlo in libertà convalidando l'arresto, ma con il divieto di dimora nel territorio del Comune di Roma. Proprio in vista del ferragosto, il Comando Provinciale, con la Questura, ha intensificato il controllo del territorio per prevenire i furti in appartamenti spesso vuoti con i proprietari in vacanza, anche attraverso il monitoraggio di gruppi criminali specializzati in irruzioni in abitazione. Le tecniche sono diverse, si va dai ladri acrobati a coloro che sono capaci di aprire porte blindate in meno di 20 secondi.